Diego Fusaro, ascoltiamo le tue benitudini. Prego. Beati quelli che hanno la forza e il coraggio di credere nel Dio dei Cieli e non nel monoteismo del mercato, nel fanatismo cieco del consumo e nelle false omelie degli economisti. Beati quelli che non rinunciano al principio per cui l'uomo ha solo dignità e non ha prezzo, è sempre un fine e mai un mezzo. Beati quelli che anche quando tutto sembra perduto, quando la schiavitù viene innalzata a libertà e la falsità a verità, non si rassegnano e si rimettono tranquillamente al lavoro per essere essi stessi il cambiamento che vorrebbero vedere attuato nel mondo. Ciò che c'è non è tutto. Grazie.